questa è l'allenanza mattina fai il filaleo di Cien e per il primo raggio 4 a 15 con un primo raggio 4 di trasporto ormai se non vogliate l'allenanza mattina fai il filaleo di scusso per voi 4 a 15 con un primo raggio 5 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 a 15 giro giro guarda sto rivelando 5 a 15 siamo a primo ritmo A me le gustate, luna se acusura, perché sta morena, vuole la cintura A me le gustate, luna se acusura, perché sta morena, vuole la cintura Quando lì al mare, l'amanda aversione Viene l'eche, lei se lo va a fare, baila l'eche, come un figlio, come un muestro Viene l'eche, lei se lo va a fare, baila l'eche, come un figlio, come un figlio, come un figlio, come un figlio, come un figlio.